ancora una volta ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo video sono xx alex x 75 oggi vi farò vedere la mia nuova casa come l'ho costruita io copiata da da un videogioco dal 2001 e 2005 questo è il mio villaggio come ho fatto io questo è il nostro villaggio come abbiamo costruito è generato un'evoluzione come un'evoluzione come un'evoluzione come un'evoluzione ok welcome to my house please enter our show in your free will and bring us to what happens in your face i'm so lacking in my own tutto ciò che possiamo vedere nella casa nella libreria seguitemi ragazzi nella mia libreria ci sono un paio di scaffali di libreria con sopra c'è una ragnatela ok qui ci sono le g e si possono anche scrivere con la pena dopo passiamo andando avanti tutto ciò che possiamo vedere con il riparo di son water statui of repair along with a few audible installations in this minute i'll spawn this one that i'll knock through and one big uh and then i'll knock through the door 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 qui sotto ci sono le spine di magma che non si può oltrepassare per una trappola poi controlliamo non si può oltrepassare per una trappola benvenuto nella mia stanza welcome to the family welcome indeed nothing in the bar so far this little uh pledges che stanno dobbiamo installi stanno dobbiamo as far a chat as you can see are the few manual operations house to the ground a dot pops find some pelibus species in the dc2t you are errant did offer exister exeris this day to fetch me as the villages spot in the ground let me feed let me feed ok la sotto potrebbe essere un'altra un'altra matura l'ultimo sai qual è? armatura di diamante woohoo carino vediamo all'esterno come si vede perfetto ok abbiamo visto tutto intorno alla cosa esterna ora vi chiedo una cosa è veramente una bellissima una bellissima cosa vi è piaciuto esplorare questa mia casa che ho visto all'interno all'esterno ok ci vediamo tutti ragazzi ci vediamo e ci vediamo per il prossimo video ciao ciao in the next video bye bye